Giù le mani dei lavoratori! Giù le mani! Sono i lavoratori dei call center aderenti al sindacato CUB, oggi in sciopero con un presidio davanti alla sede di Confcommercio a Milano. Perché oggi in piazza? Per mantenere i diritti legati al nostro contratto. Senza aver voce in capitolo nessuno può tutelare i propri diritti del lavoro. Costretti a incrociare le braccia dopo che l'Asso Contact, l'associazione che riunisce le aziende del settore, ha annunciato che dal 1 agosto uscirà dall'attuale contratto delle telecomunicazioni senza comunicare un'alternativa. Costi del lavoro e tasse troppo alti, calo dell'attività e richiesta di maggiore flessibilità da parte dei committenti. Queste le ragioni della protesta. Ciò significa il rischio di perdere tutta una serie di diritti economici e normativi e soprattutto non sappiamo che cosa succederà dal 1 agosto. In tutta Italia gli addetti sono quasi 100.000, oltre 5.000, gran parte donne e coloro che operano in una quarantina di call center a Milano.